Musica Sfogliamo insieme i quotidiani che arrivano dalla Mzardegna. Sassari, notizie, ufficio ticket chiuso, pazienti senza referti medici, scoppia il caos attiesi. Lo sportello dove effettuare il pagamento per le prestazioni sanitarie, l'ufficio ticket è fuori uso da diversi giorni. Per questo motivo, chi ha bisogno di effettuare una visita e dunque pagare la prestazione, non può farlo se non si reca alle poste o a Sassari. Una situazione incresciosa per cui è intervenuto anche il sindaco. In caso di mancata consegna dei referti, si legge nel messaggio del primo cittadino, ci si può rivolgere sia a lui, al sindaco, oppure direttamente ai carabinieri. La nuova Sardegna, una turista si pente per un sacchetto di sabbia e la sabbia ritorna a Budelli dopo 29 anni. Il sondaggio, applausi per oggi, un rimprovero per ieri, lo ha inviato per posta. La donna ha restituito la sabbia al Parco Nazionale dell'Arcipelago Madalenino, un involucro con i preziosi granelli portati via dalla spiaggia rosa. Ancora di sabbia continueremo a parlare sul nostro Illa TV. Andiamo avanti su alger.it. Non si va via per due euro e mezzo, dice il ministro del Rio, che non fa nessun cenno alle richieste giunte dall'isola per congelare l'aumento della tassa d'imbarco, tra le cause per cui Ryanair ha bloccato decine di voli d'Alghero. Pressioni inutili e da Ryanair scuse, la tassa rimane. Vediamo a Olbia e la strada sullo strapiombo senza protezioni. Siamo su olbia.it. Vediamo la fotografia che ci propone il quotidiano gallurese. Una strada sembra molto pericolosa. E con una nuova segnalazione a farla. È un consigliere comunale che lavora da settembre per risolvere alcune criticità più importanti del comune di Olbia. Andiamo avanti. Cronache Nuoresi. Donna travolta in strada in via Pietro Mastino. Una brutta avventura ieri pomeriggio per una donna che è stata investita da un'auto mentre attraversava questa. E la foto dei soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si torna a parlare di sabbia rubata, in questo caso ma non restituita. Siamo su Illa TV Magazine. L'hashtag Cabras fa scoprire la sabbia rubata. Attraverso Instagram un nostro lettore ha trovato una fotografia che racconta di un gruzzolo di sabbia che è stato rubato e portato via in Turchia. Maggiori novità poi le vedremo anche nella giornata di oggi. Monserrato sull'Unione Sarda, Monserrato maxi incidente sul 554. Tre feriti chiusi al traffico la statale. È accaduto ieri intorno alle 20. Tre feriti di cui uno grave, anche se fortunatamente non in pericolo di vita. Sono state coinvolte almeno quattro auto. Imbrattà agli arredi del poeto Zedda, responsabile rintracciato grazie ai cittadini. Il sindaco ha bollato l'autore del gesto come incivile e nemico della spiaggia. Le immagini sono state diffuse sui social network e hanno suscitato grande sdegno. Con questo è tutto. Grazie a tutti.